C'era una volta il catenaccio, 31 storie di un calcio che non c'è più. Un libro di Antonio Ludovico, presentato a Taranto a Palazzo di Città. Storie di campioni, di calciatori che hanno fatto battere il cuore di tanti tifosi e di cui nomi restano scolpiti in un passato che resterà solo nei ricordi di chi quelle stagioni le ha vissute. Questo libro parla di un calcio che non c'è più, un calcio degli anni 70. Sono 31 profili di calciatori non tra i più importanti, non tra i più celebrati degli anni 70, però calciatori che hanno avuto delle storie belle da raccontare, in alcuni casi anche drammatiche. Guardi, è un libro che comunque ci fa rivivere, per noi che siamo addetti ai lavori, ma soprattutto appassionati di questo grande sport, ci fa rivivere gli anni 70-80. Ci sono ricordi molto belli di Taranto, di quello che era il calcio di una volta nella nostra città. Hanno preso parte alla presentazione gli assessori Paolo Castronovi e Fabrizio Manzulli. Un libro che racconta un calcio che non c'è più, che è stato sovrastato adesso da altre logiche, che non sono più quelle dell'impatto fisico fra i giocatori, ma adesso ci sono logiche diverse. Ovviamente anche questo calcio ha il suo fascino, ma in questo caso raccontiamo un'altra storia, raccontiamo una storia di giocatori che non hanno avuto la visibilità che hanno i nostri giocatori di oggi. Un bel libro, ringrazio Michele Mazzariello per l'invito innanzitutto, perché lui è sempre molto attivo, è sempre in giro per la città, conosce sfumature che spesso a noi sfuggono. Un messaggio anche di carattere sociale, su quanto è importante la collaborazione, l'attenzione e il supporto a chi magari spesso è un po' più in vista, ma questo non vuol dire che non siamo tutti importanti nelle azioni quotidiane.